Vi prego solo una domanda senza, non un'altra volta che stiamo allargati, c'è di attenere, grazie. Certamente, per il condizionario generale, so che questo partizio del mondo di Estrago sembra per la sua idea, per il punto di vista che siamo inizio, è soltanto il resto, ma non è niente una predicazione, diciamo così, relativa. Non è niente definitivo in questa squadra, perché oggi non ho dato nessuna indicazione, ho portato la formazione e ci giocato in quello che sapete fare. Io lo conosco in quella posizione, per me, perché ha fatto tanti anni, per centri, ma io ho fatto un blocco fuori. Grazie a tutti.